Venerdì 18 novembre all'Hotel Flaminio di Pesaro, a partire dalle 18, verrà presentata un innovativo dispositivo di AS Tecnologie di Sicurezza, un video allarme che è destinato a cambiare anche la prospettiva per aziende ma anche per le forze dell'ordine. AS Tecnologie di Sicurezza è rappresentata dai coniugi Paolo Nicolini e Serenella Albonetti, ai quali chiediamo il valore aggiunto che darà questo dispositivo. Sì, io ringrazio in primis la CNA che mi ha permesso di conoscere questo dispositivo, che è un aiuto per le forze dell'ordine ma soprattutto per la sicurezza partecipata della città. È un dispositivo che viene allacciato direttamente alle proprie telecamere e che ti dà la possibilità di essere collegato in contemporanea con le forze dell'ordine perché alla generazione di un SOS, di un allarme, immediatamente le immagini vengono aperte nella sala delle forze dell'ordine e loro hanno subito la visione di quello che sta succedendo. Si tratta di una novità assoluta per la realtà pesarese? Per la realtà pesarese è quasi assoluta perché è stata provata in periodi precedenti dove però non ha preso piede perché nell'epoca non esistevano molti impianti di telecamere. Per cui diciamo che oggi dove invece la videosorveglianza viene portata da tutti a tutti i livelli e avendo i dispositivi pronti al collegamento è una cosa che invece porterà dei grandi benefici a tutte le attività connesse perché in tempo reale, ribadisco, in tempo reale, quello che può essere l'atto criminoso presso la propria azienda di attività viene rilevato e trasmesso direttamente alla centrale operativa delle forze dell'ordine. Spieghiamo meglio quali sono gli invitati a questo appuntamento di venerdì e come si svolgerà? Allora, noi iniziamo una registrazione ospiti alle 17.30 per permettere a tutti di avere la propria cartellina e di essere pronti a quello che sarà la presentazione. La presentazione sarà sulla conoscenza del dispositivo. Verrà fatta una dimostrazione di quello che in tempo reale succede nel momento che viene generato l'SOS e parte l'allarme verso le sale operative delle forze dell'ordine. Quindi si farà vedere l'apertura delle immagini delle telecamere e quello che dalla sala delle forze dell'ordine faranno per coordinare l'intervento migliore da fare. Quindi questo è un sistema che è anche economico. Economico perché? Perché l'intervento è mirato. Non c'è l'intervento comunque se scatta l'allarme. Ad esempio potrebbe esserci qualcuno o potrebbe essere scattato per niente. Quindi si va effettivamente se c'è l'effrattore. C'è la possibilità di tramite i mezzi della polizia entro due ore di prendere l'effrattore ma soprattutto si risparmia il carburante, si risparmiano i costi che sono dell'intervento, del pronto intervento perché grazie a questo protocollo di intesa con il Ministero dell'Interno i carabinieri hanno già le loro immagini sette giorni registrate, le immagini soccriptate quindi non viene pagato niente di più che un semplice canone mensile. Più che un punto di arrivo è un punto di una nuova partenza per dare un servizio ancora migliore a quello che la mia azienda con mia moglie, mio figlio e i miei collaboratori ha sempre dato in tutto il territorio. Io sono 45 anni che faccio l'installatore e poi il direttore in azienda e la nostra volontà è stata quella sempre di progredire e di migliorare verso tutte quelle che sono le tecnologie attuali che permettono sicuramente di avere una sicurezza a 360 gradi sia per le case che per le aziende.